Ciao, siamo nel camerino di Gullotta e fra un po' faremo una bella chiacchierata con lui. Siamo nel camerino di Leo Gullotta che è l'interprete di Il sogno di una notte di mezz'estate che per me è uno dei più bei lavori di Shakespeare ed è bottom. Guardate intanto, vi faccio vedere il camerino, guardate, ecco. Un camerino ricco, un camerino colorato. Ma grande soprattutto. Un camerino gioioso, questo è un camerino storico dello storico teatro di Liseo di Roma dove in questo camerino la storia del teatro, da Visconti, Ricci, De Filippo, Stoppa, Morelli, il teatro italiano è passato tutto da qui e questo è il primo camerino dei camerini. E infatti... Ne sono onorato. Infatti, e tu questo periodo bellissimo con i grandi registi l'hai vissuto tutto? In parte, io da poco ho festeggiato i miei 67 anni e diciamo nel periodo che il teatro c'era l'imbarazzo della scelta su Roma, quindi parliamo degli anni 50, degli anni 60, fino agli anni 70, personalmente non ho avuto questo piacere, ero a Catania, ero giovinetto a Catania, però molti di questi spettacoli in tornelli li ho visti. Leo, lo spettacolo che è più caro al tuo cuore, naturalmente dei tuoi? Tantissimi ovviamente, tantissimi, i 50 anni di vita professionale tantissimi, ma il ragazzino a Catania, mi ricordo proprio uno spettacolo di Patroni Griffi, Anima Nera, oppure che cosa ti posso dire, in memoria di una signora mica con la grande Brignone, un giovanissimo Giancarlo Giannini, tanti, tantissimi. Ma io parlo dei tuoi, quello che ti è più caro, quelli che hai fatto tu? Ma no, 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 è come domandare alla mamma qual è il figlio che ami di più. Arthur Miller diceva che erano tutti i miei figli, lo so. Erano tutti appunto miei figli, a volte ci sono spettacoli che magari credi, eccetera, fai di tutto, magari per una ragione o per un'altra, non hanno la stessa riuscita, ecco quelli sono i personaggi che hanno più bisogno di cure e quindi te li tieni dentro vicino a te, con molto più affetto, ma non dirò mai qua… Certo, sono i bambini più deboli. Esatto. Leo, tu hai fatto di tutto, allora hai iniziato la radio con me, ti ricordi, e riaffidato le mie cure, e poi televisione, e poi teatro, e poi cinema, e volevo chiederti, sei tentato dalla regia, perché non ti sei mai espresso con la regia? Guarda, io astento e a volte non mi riesce bene, diciamo faccio di tutto per fare questo mestiere, così come mi hanno insegnato, con disciplina, umiltà, preparazione, e questo di questi tempi si vede molto poco, per carità ci sono tantissimi colleghi miei, bravissimi, straordinari, ma è proprio il periodo che la linea politica italiana ha abbassato tutto molto. No, la regia no, la regia no, ognuno deve fare il proprio mestiere, è questo nostro paese così meraviglioso, tutti sanno fare tutto, io astento appunto a so fare solo questo, mi definisco un buon artigiano, no, ognuno con il suo… E Dio per tutti. Esatto. Questo spettacolo è alla regia di Fabio Grossi, è un binomio che avete formato ormai da un po' di tempo e siete stati campioni di incasso qui al Teatro Eliseo, avete avuto veramente il maggior successo nei lavori degli ultimi anni? Ma sai, negli ultimi anni, sempre prodotti dal Teatro Eliseo di Roma, due pirandello che hanno girato per 4 anni in tournée, oltre Roma, abbiamo fatto un altro Shakespeare, Le Allegri e Comari di Windsor, altri due anni, quindi in 6 anni, spettacoli che hanno incassato tantissimo, questo per dare la risposta a quel ministro, sì, penso di sì, a quel politico, politico sì, forse penso di sì, che ha detto che con la cultura non si mangia, la cultura è importante per un paese, è la formazione, è la chiave, è la storia. È il tessuto connettivo. Ed è un'industria, soltanto qua da noi ancora questo non lo vogliono vedere, quindi bugie su bugie, su bugie, no, 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 non è così, spettacoli, abbiamo fatto di tutto, anche perché dati, oltre professionalmente, con grande coscienza e grande onestà e di questo ne siamo perfettamente contenti. Leo, nella tua lunga carriera hai dei rimpianti? No, assolutamente, né prima né dopo, né in quel periodo che si dice no, la fame, quelle cose lì, la gavetta, l'ho fatta, ma ricordo ogni momento con grande gioia, con grande partecipazione, ho dei bellissimi ricordi, col poco, col tanto, sono contento, non mi devo rimproverare nulla, è in coscienza, sto con i piedi per terra, guardo la vita, certo, dati i tempi pesantissimi, i tagli e quant'altro, in prima linea con la chiave di voler offrire spettacoli, naturalmente gestiti come regista da Fabio Grossi e condividendo, pensando sempre al pubblico, non bisogna togliere nulla al pubblico, anzi bisogna ridare spettacolo, perché ovviamente con i tagli molte cose, molte compagnie hanno dovuto chiudere, colleghi, mancanza di lavoro, praticamente hanno fatto un ricatto alla cultura italiana, al teatro, al cinema, alla cultura tutta, noi altri invece facciamo di tutto, questo spettacolo, sogno di una notte di mezz'estate, che in questo caso è prodotto dal Teatro Stabile di Catania e ospiti qui al Teatro Eliseo fino al 24 di febbraio, come sempre anche con gli spettacoli precedenti bisogna dare al pubblico spettacolo, il piacere dell'occhio e dell'orecchio e il pubblico questo vuole perché vuole riaccostarsi, vuole riappropriarsi della riflessione, di uscire da casa, di stare insieme e di vedere spettacolo. Leo, tutti gli auguri del mondo e al giovane Leo chiediamo al bambino che c'è in te, e chiediamo sogni nel cassetto? Salute, questo è un mestiere dove devi conservare la salute che fino adesso la conserviamo meravigliosamente, fino al 67, speriamo che si conservi così ma il bambino che c'è in me come in tutti noi io non lo metto mai da parte. Grazie Leo. Siamo al Teatro Eliseo e appena finito lo spettacolo che abbiamo visto, meraviglioso sogno di una notte di mezz'estate e questo è il bravissimo regista, Fabio Grossi. E allora, che cosa ci hai voluto per mettere su in palcoscenico uno spettacolo così bello? In periodi come questi di crisi nel teatro italiano e in tutta la società italiana, tanta passione, tanta passione da parte mia ma da parte della produzione e da parte degli attori. Beh, guardi, che cos'è che le ha fatto, che cosa è stato più difficile in una realizzazione come questa, dove tutto è perfetto, dove una macchina perfetta, dove tutti quanti recitano meravigliosamente, dove non c'è un attimo di pausa e uno sbaglio? La ringrazio, è molto gentile prima di tutto, che cosa è servito? È servito seguire la scrittura del bardo, Shakespeare sapeva scrivere per il teatro e ancora oggi è un evergreen, questo è il mio modesto punto di vista. E poi metterlo in scena cercando di filtrare il tutto con la propria esperienza, la propria, le proprie sensazioni, le proprie emozioni. E così io sono riuscito a gestire 23 persone in scena, in una scena così grande, con questi costumi così curati di Luigi Perego. Con un trionfo di colori incredibile. La ringrazio, trionfo di colori incredibile, molto bello, ma anche un trionfo di note. Con il maestro Mazzocchetti che ci ha accompagnato per questo spettacolo, raccontando e tirando fuori veramente tante sensazioni che io gli suggerivo nei miei racconti, nella preparazione dello spettacolo. Grazie Fabio Grossi. Grazie a voi. E tutti gli auguri del mondo per spettacoli belli come questo. Grazie mille. E tanta salute a voi. Grazie a voi.